Ho scelto Service Design perché sono laureata in Ingegneria la mia triennale e ricercavo però una facoltà che mi permettesse di unire la mia passione per il design con una didattica che si muovesse molto sul campo e l'ho ritrovata qui a Bologna. Infatti il Service Designer è colui che progetta e idealizza tutti quei servizi volti al miglioramento delle persone quindi senza un lavoro sul campo con le interviste dei cittadini e delle persone non si potrebbe fare questo tipo di lavoro perché è volto a migliorare quelle relazioni e quelle connessioni in ambito urbano anche tra ambienti pubblici e privati.